Amici di Mi End abbiamo qua oggi il nuovo Nokia Lumia 800 appena comprato è uscito il 20 di questo mese, di novembre, andiamo subito ad aprirlo abbiamo il device, l'abbiamo preso nero, è disponibile in un violetto nero e azzurrino scuro abbiamo il terminale che è lungo 116,5 mm, largo 61,2 mm e spesso 12,1 mm nella parte più alta perché come vedete è un po' bombato, bombato è anche il display che è un Gorilla Glass lo schermo è da 3,7 pollici ed è un pezzo unico anche con i tasti touch, non si separa è uno schermo AMOLED clear black, molto molto definito andiamo avanti, abbiamo i tre tasti touch, di sopra abbiamo il jack da 3,5 mm per le cuffie poi se premiamo qui accediamo al vano per la micro usb che serve sia per collegare il telefono sia per connessione dati col pc e poi facendo uno slide a destra scusate, non è molto semplice si accederà al vano dove abbiamo una micro sim quindi se avete una sim normale, comprate questo telefono non con un operatore vi consigliamo di comprare su ebay un cutter apposta per tagliare la sim rimettiamo tutto dentro, chiudiamo, tutto molto compatto andiamo avanti con la confezione qua abbiamo un po' di manualistica ci viene fornita anche una cover del colore del telefono io l'ho provata, ha un grip buono e poi sinceramente non sembra che sia una cover cioè chi vede il telefono per la prima volta non riesce a distinguere si vede solo da dietro perché c'è un leggero gradino tra la scocca e la custodia poi rimettiamo a posto la custodia abbiamo il caricabatterie abbastanza particolare usb poi il cavo micro usb che è condiviso sia per caricare che per la connessione dati con il computer e gli auricolari di ottima fattura non in ear per fortuna perché io non li amo molto si sentono benissimo molto ma molto bene abbiamo anche il tastino per rispondere alle chiamate utilizzare i comandi vocali e parlare anche in macchina sono molto comodi mettiamo via tutto allora guardiamo ulteriormente il telefono a destra abbiamo il bilanciere per il volume il tasto accensione spegnimento stand by e il tasto fotocamera doppia corsa la fotocamera è posta dietro con un doppio flash led è una fotocamera con lenti Carl Zeiss come Nokia ci ha abituato ad avere da 8 megapixel e gira video a 720p molto ma molto bella questa fotocamera poi sotto abbiamo l'autoparlante che è anche questo abbastanza nascosto con la scocca e sopra la capsula auricolare finito qua andiamo ad accendere il telefono intanto continuiamo il telefono ha 16 GB di memoria integrata non c'è nessuno slot micro SD o SD di alcun tipo una memoria RAM di 512 MB un processore single core da 1400 MHz che è un Qualcomm MSM8255 poi abbiamo una connettività wifi, bluetooth con chiave di sicurezza WEP, WPA, eccetera wifi BGN e poi vabbè che altro iniziamo ad accendere il telefono scusate che metto il pin Windows Phone 7.5 a bordo avevamo già fatto una recensione del Samsung Omnia 7 sono cambiate molte cose nel frattempo il market si è arricchito le funzioni sono aumentate e la velocità rimane sempre la stessa allora se teniamo premuto il tasto indietro adesso abbiamo con Windows 7.5 il multitasking molto ma molto comodo per chiudere le applicazioni aspettate che vi faccio un esempio ne apriamo un po' usciamo apriamo quest'altra usciamo se teniamo premuto indietro abbiamo tutte queste applicazioni se noi andiamo qua per chiuderla è necessario continuare a premere il tasto indietro se no le applicazioni rimangono aperte non c'è una una X che ci permette di chiuderle le chiamate vanno abbastanza bene non c'è nessun problema di sorta abbiamo molto comoda la la segreteria telefonica già tra le funzioni in basso e la rubrica la ricerca veloce i contatti come al solito sono sincronizzati con facebook linkedin twitter eccetera con tutti i social network se infatti andiamo sulle impostazioni ci chiede quali dati dobbiamo prelevare dai nostri contatti per mettere nella rubrica si possono creare gruppi come vedete questo è il gruppo scuola ho messo dei miei contatti si può seguire questo è il mio amico Claudio che anche lui partecipa a Mi End abbiamo tutti i dati di facebook le novità della sua bacheca foto e cronologia dei messaggi eccetera molto bella e completissima la sincronizzazione con i social network i messaggi sono in chat come potete vedere c'è anche la funzione di scrittura vocale proviamo ciao Claudio come va ciao Claudio come va ci ho messo anche il punto di domanda perfetto possiamo anche allegare foto eccetera quindi possiamo inviare mms molto comode le funzioni vocali se siamo in macchina poi il calendario sincronizzato con tutti i tipi di account che avete outlook quindi se siete in un'azienda in una società molto comoda se cambiate telefono e passate sempre a windows phone un altro cellulare con windows phone vi rimane su tutto quindi non c'è problema per la migrazione dei dati rubriche eccetera comodissima gli impegni vengono anche visualizzati qua in basso nella home office completissimo come al solito hanno aggiunto anche skydrive quindi possiamo aprire tutti i documenti di skydrive comodissimo anche questo sono circa 30 giga che ogni utente microsoft che ha una mail windows live può avere ci può caricare su quello che vuole musica immagini eccetera una cloud molto completa quindi internet explorer che supporta html5 purtroppo non ha flash come ios ma ne facciamo anche a meno andiamo su una ricerca vediamo un po' google ho sbagliato a scrivere questa è la ricerca di bing che si attiva col tasto cerca touch posto qua in basso abbiamo problemi di rete e non va comunque andiamo nell'area clienti di 3 vediamo un po' se si apre internet molto fluido e veloce durante la navigazione non da alcun problema questo è un sito mobile come vedete il pinch to zoom molto veloce lo scrolling anche usciamo internet perfetto mail si possono sincronizzare creare più account unire più tipi di account io ho collegato fastweb hotmail qui è possibile avere le cartelle del server e-map senza alcun problema mail gestite perfettamente html perfetto adesso ne ho presa una senza immagini vediamo un po' queste di solito le hanno vedete tutto molto fluido e veloce poi lab photo non è niente di che ve ne avevo già parlato è sempre sincronizzato con con facebook linkedin quindi tutte le foto che avete sui vostri social network le trovate anche qui quindi non c'è diciamo bisogno di un software per i social network infatti non è completissimo appunto perché l'integrazione è già ottima nell'hub musica e video troviamo anche la radio i brani i brani sono divisi per genere artisti album e brani appunto apriamo una canzone michael buble l'audio dalla capsula integrata non è ottimo e non è altissimo ma dalle cuffie tutto migliora ed è veramente ottimo non ho mai sentito su un cellulare una qualità del genere un plus su questo nokia per i nokia windows phone è nokia musica dove io non mi sono ancora registrato però comunque ci si può accedere lo stesso con minore funzioni ma ci si può accedere è un portale dove possiamo trovare tutti i tipi di musica che vogliamo in streaming quindi noi abbiamo un accesso infinito alla libreria mondiale di ogni tipo di musica gratuitamente ovviamente questo vi consumerà molti dati quindi vi consigliamo di sottoscrivere un piano dati con il vostro operatore abbastanza ampio usciamo dalla musica lab giochi integrato con xbox live dove praticamente possiamo condividere condividere con i nostri amici i nostri punteggi sfidarci eccetera questo è il mio avatar abbiamo un profilo si possono vedere gli amici scambiarsi anche messaggi ed è completamente integrato con l'xbox live della vostra console quindi se avete già un account xbox live non cambierà assolutamente niente l'avatar è personalizzabile il marketplace è sempre più ricco ormai troviamo ogni tipo di applicazione e giochi quindi non c'è ormai più nessun problema abbiamo whatsapp per le videochiamate abbiamo anche programmi come megavideo per vedere se avete un account megavideo potete vedere film senza limitazioni di tempo in streaming avete whatsapp e qua funziona benissimo questi sono tutti i contatti e tutte le chat poi torniamo su lab 3 dove ci sono per chi usa 3 ci sono delle funzionalità in più adesso vi lascio e riprendiamo con un altro video e vi lascio